Battuta d'arresto del termobasket 1960 contro Senigallia, cosa non è andato l'anzilotto? Contro la partita contro Recanati abbiamo trovato le giuste reazioni dopo la partita di Giulianova. Evidentemente queste giuste motivazioni non siamo riusciti a trovarle contro la partita fuori casa e dovremo vedere per la prossima contro Saltepidio. I ragazzi probabilmente hanno sottovalutato gli avversari oppure cos'è che avrebbero dovuto far meglio? Sì, secondo me c'è stata una sottovalutazione dell'avversario o quantomeno, come ho detto prima, non c'è stata la giusta motivazione per poter affrontare la partita. Ci dovrà essere una maggiore motivazione contro Porto Saltepidio e dobbiamo necessariamente vincere. Che squadra è a Porto Saltepidio? È una squadra che è alla portata tranquillamente della nostra caratura. Noi siamo una squadra molto più forte dell'anno scorso. Sono convinto che se giochiamo come abbiamo giocato con Recanati possiamo dare fastidio a molte squadre.